Giovanni a che età hai scoperto il ciclismo? Allora ho iniziato ad andare in bici che avevo da esordiente secondo anno quindi era nel 2009 e avevo 13-14 anni Perché proprio il ciclismo? Perché vengo da una famiglia di ciclisti, specialmente mio padre mi ha trasmesso questa passione e allora ho cominciato anch'io Il tuo idolo da bambino? Il mio idolo da bambino? Beh, più che da bambino adesso il mio idolo è Wiggins Giovanni che corsa sogni di vincere? Che corsa sogni di vincere? A me piacerebbe tanto vincere al Tour de France Tu corri in una squadra che ha 100 anni di storia, più di 100 anni di storia, cosa significa per te? Beh, è molto importante Sai che alle spalle appunto hai una storia importante Sai che nel momento in cui corri stai scrivendo la storia che continua E quindi sei parte di un grande progetto Che cosa ti ha insegnato il ciclismo Giovanni? A non mollare nei momenti più difficili perché alla fine è proprio questo il difficile della bicicletta Quando sei là che soffri ci sono tanti altri ragazzi che soffrono come te e alla fine il non mollare fa differenza Cosa significa per te praticare la disciplina particolare della cronometro? Beh, misurarsi con me stesso e allenarmi per le crono e mi fa ottenere anche grandi risultati su strada Concludendo, il tuo consiglio ai bambini che si avvicinano a questo sport? Di farlo con gioco, di appassionarsi a questo sport giocando e poi andando avanti se ci sono le possibilità, le qualità, verranno da sé i risultati Il tuo obiettivo per questa stagione? Per questa stagione vorrei fare molto bene ai campionati italiani cronometro Grazie